Dottore Caruso, quali sono le azioni e qual è l'attività messa in campo dalla Questura, dalla Polizia di Stato in questa settimana? In settimana è partita un'operazione alto impatto che ha interessato il territorio di Isola Capolizzuto perché è intendimento del nostro questore, il dottore Sanfilippo, concentrarsi a questo punto anche su altre aree. Parliamo di isola in questo caso, poi le attenzioni verranno spostate anche altrove. In particolare in isola sono stati realizzati diversi controlli, anche esitati in perquisizioni e hanno interessato diverse utenze. Sono state deferite diverse persone nell'autorità giudiziaria, identificate 55 persone, controllate i 25 veicoli, effettuati 5 posti di controllo nella zona di isola Capolizzuto. Ovviamente con la collaborazione della squadra mobile e anche del reparto pensione e crimine che è insostituibile in questo tipo di attività anche perché sono specializzati, un corpo della Polizia di Stato specializzato. Prosegue poi incessante già da mesi il controllo sulle attività commerciali, gli ambulanti e non. Altra informazione importante che possiamo dare come Polizia di Stato è l'arresto da parte della squadra mobile in settimana di tre cittadini dell'Ucraina resisi responsabili di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.